Nemmeno il tempo di esultare per la sudata vittoria col Geraci e già Illicata si rituffa in campionato nel prossimo match Casalingo contro il Dattiro, quarta forza del campionato di eccellenza. I gialloverdi vogliono continuare a far punti per sperare nella proda ai play-off, ma per Illicata non possono esistere sconti in questo finale di stagione. L'allenatore Giovanni Campanella ha cercato di far riposare soprattutto mentalmente i calciatori che sono reduci dalla gara di mercoledì dove non hanno risparmiato le forze per ottenere il massimo risultato con un Cannavò in gran spolvero che ormai ha preso le misure alle porte e non passa gara senza che lui segni. Antonino Cannavò continua ad essere il capo cannoniere del torneo di eccellenza con 24 reti segnate. L'altro Licatese, Davide Testa, di reti, ne ha segnate 13 ma è terzo in graduatoria perché lo ha superato Fabio Messina del Mussomeri. Testa dunque è atteso all'appuntamento col gol. Sarà il campano Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola e il direttore di gara a cui è affidata la direzione di Illicata Nattiro. Assistenti della sezione di Catania, Antonino Alessio Di Paola e Dario Testai. Il cammino dei giallobru non conosce ostacoli perché Illicata ci mette il cuore. Adesso a quota 64 vede sempre più vicina la serie D. Si distacca di 9 punti dal Canichetti, secondo che dovrà recuperare il turno in casa con il Profavara. Il derby sarà recuperato il 13 marzo alle 15 ma nel frattempo domani il Canichetti allenato da Nicola Terranova affronterà in casa il Saraceno di Ravanusa. Il Cus Palermo si tratterà di una sfida importante e delicata dopo le fatiche della Coppa Italia nazionale a Corigliano Calabro con un dispendio di energie fisiche e mentali non indifferenti, visto che il match si è concluso con il punteggio di 2 a 2. La qualificazione è rinviata mercoledì 6 marzo, ma intanto i biancorossi sono concentrati nella sfida con gli universitari parermitani che all'andato hanno creato qualche problema al Canichetti. Il tempo a disposizione del tecnico Nicola Terranova e dello staff di preparatori Gianluca Amato che cura la parte atletica e Pietro Catalano che invece si occupa della preparazione dei portieri è stato scarso. Ma dopo la seduta di defaticamento i calciatori hanno iniziato a lavorare per affrontare il Cus Palermo. Qualche incertezza per l'utilizzo di Benedetto Inaci che a Corigliano si è fatto male ma dovrebbe recuperare. Dirigerà l'incontro il signor Danilo Laverde della sezione di Caltanissetta assistito da Cucce e Bionda di Trapani. Si inizia alle 15. Gioca invece oggi in anticipo il profavara con la Parmonval. La formazione favarese allenata da Giuseppe Balsamo occupa la settima posizione in classifica con 34 punti ma deve recuperare ancora la gara col Canichetti. Terna arbitrale tutta trapanese con Giuseppe Asaro di Marsala centrale, Monica Genovese e Nicola Parrinello assistenti fisco d'inizio alle 15.